qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte più mi ci perdo più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così immutati ma sempre differenti pronti a rinnovarsi anzi a crescere proprio come noi cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo hai visto quante novità al conade di montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al conade di montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al conade di montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche e sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parquet ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a rio salso di tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio buonasera a tutti e benvenuti alla dodicesima puntata di insieme a canestro siete sintonizzati su Rossini tv come sempre potete seguirci sul canale 80 visibile in tutta la regione ma anche sulla nostra pagina facebook ovunque nel mondo lo diciamo con orgoglio e in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare e anche sul sito internet di Rossini tv un saluto quindi a tutti i telespettatori per questa fortunata trasmissione che giunta ormai alla quarta stagione e quindi per questo dobbiamo come sempre ringraziare gli sponsor che ci sostengono con ad montecchio macchini ceramiche e banca di pesaro e adesso passo a presentarvi gli ospiti questa sera siamo veramente contenti di avere nella serata giusta l'ospite giusto riccardo visconti alla della carpegna prosciutto ciao a tutti grazie dell'invito ciao ricchi siamo contenti di averti proprio dopo un partitone clamoroso e l'ospite che completa questa sera la trasmissione e lo conoscete tutti perché fino all'anno scorso era qua al posto mio e io stasera l'ho voluto con me per la puntata di natale marco cadendo grazie betta un onore essere qui e sono commosso per l'invito che mi hai inoltrato in settimana bene stasera ci divertiamo sicuramente passo la parola adesso a giovanni zid anche quest'anno è lui che vi dirà come mettervi in contatto con noi per porre domande anche rispondere al contest che lanceremo tra poco e che riguarda ricchi e mette in palio due biglietti per la partita di sabato 23 dicembre contro varese a chi risponderà per primo vai giovanni buonasera buonasera a tutti come sempre il numero whatsapp 370 366 72 10 oppure commenti e domande nella diretta facebook di rossini tv e marco scusami intanto bentrovato e bentornato buonasera a te l'inter da due diciamo da due mesi sta andando veramente bene non si può parlare di calcio non sei potuto venire da quando ci sono io è vietato ma questa sera visto che questa sera ecco ecco dammi questa soddisfazione almeno concedimi due secondi per parlare dell'inter per parlare che colore mi sono vestita visto 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 rosso nero ma rosso nero rosso blu mi sembra anche il bologna di ieri sera ancora io mi devo riprendere da quello che è successo ieri sera ma adesso spazio alla vl giustamente altrimenti ci scrive qualche spostatore come l'anno scorso che è vietato a parlare di calcio e c'ha ragione certamente bene e ricordiamo come sempre il contest per due biglietti per la partita di sabato 23 dicembre alle 20 e 30 contro la oppeggio mattis varese il contest riguarda il nostro caro ospite qui presente riccardo visconti che ha giocato domenica la sua miglior gara della sua carriera in serie a con 19 punti e 5 su 5 da 3 punti vogliamo sapere qual era il suo record di punti precedente e contro quale squadra lo aveva stabilito bene io penso che non è difficile perché ogni tanto ci dite che le domande sono troppo difficili quindi qui si tratta di velocità chi fa prima andare a cercare su internet questa notizia si porta a casa due biglietti e così può venire a vedere la partita contro varese che tutti attendiamo per divertirci a due giorni dal natale insomma c'è un'aria frizzante che ci piace assolutamente e facciamo i complimenti per la cravatta giustamente è uguale alla tua è una tradizione guardiamo le cravate con babbo natale con la birra ubriaco di è una tradizione che abbiamo voluto continuare nella tua quarta stagione va benissimo abbiamo evitato di venire col cappellino del babbo natale anche se avremmo potuto dopo vedi potevamo fare la foto finale aveva un cappellino allora vorrei dire intanto una cosa è la scorsa puntata una nostra ascoltatrice tiziana disse rungarina mentre tutti erano negativi pessimisti sfiduciati ha detto a pistone vinciamo di tre ha quasi azzeccato risultato perché se non sbaglio tiziano aveva detto 78 75 abbiamo vinto 74 73 quindi bravissima tiziana continua così bisogna crederci sempre che faccia il pronostico anche passata sera se vuoi fare noi siamo contenti tiziana scrivi pure e adesso come c'è la birra però almeno uno spritz qualcosa gli dovrei offrire sì 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 vieni pure a rossi in tv a trovarci che un bicchiere di qualcosa te lo offriamo volentieri brutto con un pandorino lo trova sempre allora ricchi cominciamo a parlare di questa vittoria chiedo ad andrea dalla regia di mandare gli highlight di pistoia vl una vittoria pesante una vittoria dominata per tre quarti poi messa in discussione riconquistata sincerini ha confessato in un'intervista che durante quel finale con pistoia in rimonta ha perso dieci anni di vita tu come l'hai vissuta ma quel finale non è stato per niente facile perché pistoia il palacarra era un palazzetto non grandissimo no in cui il tifo e si sente tantissimo in quel periodo in cui hanno fatto quel parziale obiettivamente in campo non si sentiva assolutamente niente quindi non è stata facile fortunatamente si è riusciti a subire qualche fallo portare a casa qualche tiro libero che ci ha poi sbloccato sostanzialmente però è stata davvero davvero tosta tu hai detto che non avevi mai giocato a pistoia prima volta che giocavo a pistoia sì perché non ci siamo non ci siamo incrociati avevo fatto una panchina con quando giocavo a venezia però non ero entrato in campo quindi effettivamente sul campo è stata la prima volta beta ha detto che è stato è rimasto impressionato dal pubblico se avesse giocato i tempi del langer cosa succedeva un aneddoto incredibile una partita l'ho fatta all'angar ma i due anni no 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 era il settore giovanile quindi non era pieno ok ok ma ne ho combinate un paio mi sa che non si possono dire in televisione però hai visto che posto che era sì sì assolutamente mi ricordo durante una rimessa di essere stato preso per la maglietta ricordo solamente questa cosa qui nei settori giovanili pensa cosa succederà nelle partite ma era normale era normale senti marco quante volte hai visto la vl quest'anno ma guarda io adesso devo devo fare un appunto perché mi era stato promesso da una persona che qui in sala qui questa sera non facciamo nome ma solo il cognome sto scherzando che mi avrebbe regalato un abbonamento ad honorem ma come si fa quei vecchi insegnanti che a fine carriera vengono insigniti di una laurea non è stata rispettata questa promessa non importa e quindi l'ho vista in tv e sono venuto al palace veramente poche volte in televisione la sto seguendo abbastanza di frequente insomma senti che idea ti sei fatto della squadra di maurizio buscaglia pregi difetti o comunque le qualità che che hai notato oppure i limiti che allora è un diciamo dr jekyll e mister height abbiamo avuto alcune partite in cui la squadra nonostante dei limiti strutturali che non sto qui a ripetere perché tanto la tecnica sei tu e poi abbiamo riccardo che sicuramente ne sa più di noi diciamo che non ci stiamo divertendo come gli anni scorsi su questo non ci piove ancora tu sei abbastanza positiva io posso esprimere come la nostra rubica sui senza giacca la pancia del tifoso posso esprimere un'opinione della tifoso sperando veramente che si sblocchi qualcosa che scoppi quella scintilla che possa far ritornare il buon umore sia noi tifosi sia voi giocatori ci siamo andati vicino benissimo pistoia è una boccata di ossigeno strepitosa ma quanto ci avete fatto soffrire quell'ultimo quarto in cui negli ultimi sette minuti non avete fatto un canestro in di gioco questo proviamo a chiederlo anche a riccardo perché comunque ecco mentre voi eravate lì vi rendevate conto che era così tanto che non riuscivate a segnare assolutamente ma è capitato anche in più partite che ci trovassimo con la più che noi a non segnare l'altra squadra a iniziare a segnare secondo me era più preoccupante quello io una cosa che ripeto da inizio anno è che alla fine come anche l'anno scorso la differenza nelle nostre partite la fa la difesa abbiamo fatto delle buone difese a pistoia poi ovviamente loro si sono accesi l'aiuto del pubblico ha creato un determinato contesto però io credo che non sia tanto importante il non far canestro in attacco quanto il non prenderli in difesa secondo me dobbiamo puntare su quello no avete avuto anche due o tre tiri per chiuderla anche costruiti bene perché per esempio c'è la percezione sbagliata secondo me di aver combinato un disastro in quei sette minuti finali ma riguardandole io mi sono accorta che ci sono stati dei tiri anche costruiti bene che non sono entrati poi è vero ci state delle palle perse c'è stato qualche pasticcio però c'è stata anche una rimessa rubata da cinciarini proprio davanti alla nostra panchina quei tiri liberi guadagnati da leo e poi da andrea stesso che hanno consentito di rimanere in vantaggio una stoppata bella di ford me la ricordo insomma un po di cose per non parlare di quello che ha combinato te che adesso ci arriviamo la difesa finale sull'ultimo loro tiro ma più che altro è che mura e secondo me non si era accorto che mancava così poco perché stava palleggiando con tutto non avuto non l'ora io lo stavo marcando visto che probabilmente si aspettava un blocco qualcosa del genere perché ha provato ad attaccarmi due volte mi son visto passare qualcuno dietro la schiena però non pensavi partisse quindi io pensavo da raffeggiare per tanto erano indietro di un pensavo partisse fortunatamente non ha fatto tirata da casa sua non ha preso nulla è andata bene che mamma mia che fatica però è vero se cincia persa 10 anni di vita noi di più perché mentre giochi forse non riesce a stare per 10 anni di vita ma 10 assist allora andiamo a vedere quello che ha combinato visco in questa partita fantastica dove ha fatto 5 su 5 da 3 che è il suo sua migliore prestazione in serie a a me sinceramente piaciuta tantissimo anche la schiacciata due mani che è piazzato nel traffico tratto dopo un time out in cui loro avevano cercato di frenare l'emorragia invece rientrare con con te che gli fai una schiacciata in faccia così insomma ti dirò il pubblico sei proprio zittito senti questo questo record soprattutto questo 5 su 5 da 3 quanto hanno contato i palloni che ti sono arrivati proprio magari col contagiri come si dice cioè nel momento giusto nel posto dove lo volevi tu o quanto conta la fiducia dopo che è entrato il primo tiro ma onestamente io ho fatto tante partite segnando il primo tiro poi sbagliandone altri sicuramente un insieme è un insieme di cose una cosa che ho notato tanto di questa partita e di cui abbiamo parlato anche insieme molte volte che io so di saper segnare da tre punti e so che anche che possono entrare come non entrare i tiri però io obiettivamente della partita che vedo sono d'accordo che sia la miglior prestazione che ho fatto ma anche perché mi sono trovato a marcare tutta la partita mur piuttosto che qualcosa altro vuoi dire e quindi non è una questione di punti poi ovviamente è stata una partita speciale in cui sono entrati cinque tiri su cinque da tre punti ed è una cosa sicuramente positiva però secondo me come ho detto prima la cosa più importante è stata dietro non che abbia annullato mur perché alla fine i suoi punti li ha fatti 20 però però ne ha fatti 20 nel primo tempo e quattro nella ripresa che fa un po' la differenza assolutamente secondo tempo comunque averlo bloccato così però è la prima cosa che ho detto quando firmato qua pesaro che il mio obiettivo era quello cioè consapevole delle mie caratteristiche il mio obiettivo era quello di ampliare da un'altra parte io direi che ovviamente alti e bassi che ci saranno sempre sì però ricchi hai ragione in pieno cioè di diventare un giocatore più completo però ci fa piacere anche vederti infilare cinque bombe assolutamente 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 è quello che stavo dicendo che è quella è sicuramente una cosa speciale ed è stato bellissimo ma lì quando si entra in ritmo c'è la sensazione che ne potresti mettere anche 10 io sapevo che avrei fatto canestre quindi tiravo infatti non ho fatto anche alcuni il secondo tiro non è stato molto sensato però sentivo che è così che poteva entrare quindi una cosa istintiva sì 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 poi ho capito che forse era meglio penetrare perché mi stavano chiudendo troppo il tiro è uscita quella schiacciata lì poteva uscirne una anche qualche azione prima io ho sbagliato un layup perché non me la sono sentita di provare a schiacciare però quella schiacciata se mi permette volevo fare una domanda quanto ti ha insegnato e quanto hai ottenuto dalle prediche di repesa l'anno scorso proprio relative a questa difesa ma l'ho detto mille volte magari ho sofferto in qualche momento hai sofferto quanto scupazzi di presa lasciamolo raccontare tanto mi ha aiutato tantissimo al capire la situazione perché si possono trovare mille allenatori che ti dicono devi difendere devi fare questo io mi sono trovato a carpegna in cui repesa mi spiegava come mettere i piedi nelle determinate situazioni difensive poi sicuramente un allenatore che ha il carattere che ha però la cosa che ho sempre detto e che qualsiasi reazione abbia avuto lui nei miei confronti io ho sempre percepito il bene che mi voleva e quindi questa cosa ha fatto la differenza perché oltre al darmi un insegnamento me l'ha fatto l'ha fatto arrivare semplicemente questo adesso è questione di farlo concretizzare effettivamente quello che ho imparato lo senti ancora Gelsomino ma non è non è capitato non è capitato purtroppo le cose però è la nostra vita nel senso ci capita di il professionismo sì 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 senti Marco proprio di un ritorno importante ti volevo far parlare anche di Andrea Cinciarini che è esordito a Pistoia e sabato debuterà in casa che effetto ti ha fatto da pesarese ritorno di un ragazzo che abbiamo visto spiccare il volo senza averne mai potuto ammirare il talento in maglia WL perché è andato via che aveva 18 anni esatto non lo abbiamo non è che era scomparso dai radar perché tanto poi noi pesaresi li seguiamo questi giovani talenti che lasciano la nostra città e poi vanno ad impreziosire e trovare fortuna in altri lidi non solo in Italia ma anche all'estero e abbiamo esempi che potremmo citare fino a domani certo ritrovarlo poi non certo più giovanissimo non certo di primo pelo e affrontare Pistoia con una prestazione del genere può solo migliorare può solo migliorare perché anche questi dieci assist sicuramente passano alla storia e agli annali della serie A si è già vinto lo scettro della giornata esatto prima cosa e adesso lo aspettiamo dal punto di vista realizzativo e sicuramente anche la tifoseria è felice di poter ritrovare non me ne voglia Riccardo e tutti gli altri non pesaresi ma almeno abbiamo un cavallo di razza nostrano che è tornato a giocare per la WL una bella chiusura del cerchio della sua carriera partire a 17 tornare a 37 poi quante volte Betta è stato nel mirino dai che prendiamo Cinciarini dai che prendiamo Cinciarini e poi non arrivava mai lui ha confessato che una trattativa concreta come questa non c'era veramente mai stata qualche abboccamento una telefonata un'informazione col procuratore però questa è stata una vera trattativa che si è sviluppata in un giorno perché appena l'hanno chiamato lui è accettato voleva tornare ma adesso faccio io una domanda a te ma secondo te la chiamata di Cinciarini è proprio dovuta al fatto di un sbaglio di americani beh della presenza del bisogno della presenza di un playmaker che senza nulla toglie dal nostro tambo che ce l'ha veramente messa tutta e secondo me ha anche delle caratteristiche per fare il regista però non è un playmaker puro come Cinciarini su questo penso che non ci siano dubbi McCallum non riusciva a far girare la squadra a quel punto bisognava provare a cambiare qualcosa e per me hanno fatto la scelta giusta anche se ha 37 anni perché si è visto adesso non giocherà sempre 35 minuti forse ecco nell'esordio c'era bisogno di portarla a casa sta partita no per dire qualcosa è cambiato ok adesso magari forse un pochino di meno domenica e sabato c'è da portarla a casa per forza però magari potrà giocare anche Buscaglia alla fine ha detto sbagliato avrei dovuto dargli due minuti di riposo perché alla fine è arrivato stremato le ginocchia però quei due tiri liberi esatto li ha messi dentro bene giovanni vediamo da casa un po di interventi parecchi cerco di farli tu vai vai Claudio Iacchini bentornato e buonasera Marco Cadetto un piacere rivederti in questa trasmissione grazie Claudio sempre gentile grande visco faccio altre cinque bombe anche sabato ti mandiamo babbo natale con la renna nel cammino chi è ci scrive Giulio da Istanbul di Giulia ci seguono in modo internazionale ho detto io che ci seguono in tutto il mondo ho capito chi è ho capito chi è ho capito chi è bravo Giulio bravo salutoci tutta la famiglia ecco tradizione ultra stomasoli il grande visco ti vogliamo sempre così deciso e tignoso un saluto affettoso anche stasera Marco Cadetto sempre bello parlare di calcio comunque fa un po strano effetto perché dall'altra parte del tavolo c'è Betta esperta giornalista di basket un po ci manchi nelle tue puntate con alcune domande sarebbero una bella coppia a condurre insieme bene allora proponiamo se la Betta studia sempre va benissimo buonasera anche da Claudia Ortolani un saluto a tutti voi Betta Giovanni Marco e Ricchi Ricchi vorrei chiederti il duello con Mur cosa avete detto a fine partite se vi siete parlati mamma mia se vi siete parlati posso dire onestamente che cosa è successo sì certo c'è stata un'incomprensione dove lui diceva che gli avevo parlato in italiano cosa che non era vera ma probabilmente tutto quello che ha fatto lui l'ha fatto per caricarsi perché aveva bisogno di quella cosa di portarsi pubblico a sé e io invece gli ho detto molto onestamente che noi in Italia siamo soliti a giudicare troppo presto e quando l'hanno firmato gli davano tutti del bambino invece sta facendo il mazzo a tutti di continuare a far così cioè durante la partita gli hai detto questa cosa? no finita la partita ah ok ok finita la partita gli ho detto questa cosa qui io durante la partita sapevo che era però vi siete un po' beccati quando dopo Buscaglia ti ha richiamato in panchina no? sì ma no no lui solo per quella cosa perché diceva che gli avevo detto qualcosa in italiano io gli avevo detto solamente che era nervoso sei qui in Italia ma no ma ha fatto tutto quanto per caricarsi probabilmente in maniera autonoma l'avrei fatto anch'io sinceramente in una situazione del genere poi facendo così ha iniziato tutto il pubblico e niente quindi ha fatto secondo me la cosa giusta beh scusa è stata la sfida delle babyface esattamente esattamente proprio per questo glielo ho detto sinceramente perché è una cosa che ho provato io sulla mia pelle lui forse ha maggior ragione perché è stato proprio visto come da americano ha maggior ragione è stato visto come un bambino questa cosa che lui stia facendo il mazza a tutti deve far pensare secondo me molta gente certo certo vai Giovanni diciamo allora buonasera a tutti un saluto particolare a Marco da parte di Eugenio l'artista di Vallefogna grande Eugenio e vuole chiedere a Ricky Visconti come si comporta a casa la piccola mia la piccola mia è una bella disgraziata il cane? sì 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 no è super è super super solo che ancora un po' piccolina quanto ha? adesso poco più di due mesi quindi è iperattiva però appena si addormenta cioè appena si viene presa in braccio si tranquillizza tutto quanto è normale che sia e quando sei in trasferta come fa? eh ce la giustriamo un po' io e un po' Arianna si si riesce si riesce è bello avere un cane assolutamente 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 anche perché noi avevamo già una cagnolina che è mancata purtroppo pochi giorni no forse l'ultimo giorno prima di partire per il Precision quest'anno e quindi era una mancanza che comunque siamo abituati ad avere e quindi è solo una cosa positiva voglio dire bene allora continuo un po' perché veramente tante domande ce l'aspettavamo con Ricky in studio Riccardo Di Luca ci scrive Visco se giochi sempre così come domenica scorsa ti pago un abbonamento al Tipo Pub Tipo Pub? Solo per l'estate? no non puoi andare dopo i pesaresi ti dicono che esci e vai a bere le birre non posso non posso solo per il periodo estivo bene Ricky secondo Lorenzo ci fa questa domanda ritieni che Pesaro è una tua seconda casa e per un eventale rinnovo possiamo dormire sereni? assolutamente è una seconda casa molto probabilmente cioè io qua a Pesaro mi trovo molto bene sono stato accolto anche fuori dal campo in maniera incredibile quindi sto molto bene per il rinnovo non dipende solo da me quindi vedremo un attimo come la come si evolveranno le cose la situazione questa è una paura no? tutti questi italiani così bravi quest'anno ce li fregano tutti i tifosi sono in più perché non sono solo io in scadenza mi sa credo tutti quindi sarà gli italiani meglio degli americani dai lasciamelo dire ma certo l'hanno detto tutti Marco secondo te sempre Lorenzo ti ricordi le gradinate il gradinaro Lorenzo Migiani che ha fatto aprire le gradinate l'anno scorso grande Lorenzo secondo te perché la società non vuole agevolare i prezzi per le tribune e per le gradinate un esempio 20 euro tribune 10 gradinate per tutti non solo per gli studenti? beh questo bisognerebbe chiederlo alla società non è che può rispondere Marco sinceramente esatto scrivi una mail alla società è una politica societaria e chiedi biglietteriachiocialavl.it comunque io so che per questa partita in particolare c'è la possibilità di andare ingradinata perché so che all'inaugurazione del nuovo supermercato sono stati distribuiti dei coupon quindi insomma in qualche modo c'è possibilità di trovare biglietti a più basso costo il nostro problema rimane sempre quella maledetta curva M di fronte al settore K chiusa non si sa perché per ragioni di ordine pubblico ecco quello lì è la spina nel fianco di fronte agli ultras di fronte ai tifosi però per i tifosi ospiti anche se sono 5 è comunque riservata loro e di fianco le società e poi di fianco le società i minibus però non si può comprare bigliettoli ed è un peccato perché ci sarebbe un prezzo basso e potrebbe essere piena tutte le domenze e televisivamente è veramente brutto sì perché sembra che una parte del palazzo vuota quando le tv inquadrano quel canestro magari capita che non c'è nessuno esatto cioè per dire da Varese sabato magari non viene nessuno e quella tribuna questo dubito sinceramente dubiti eh quanti saranno in 10? ma no anche perché il giorno dopo è vigilia quindi magari dai forse un po' di tifosi e poi diciamo che in Coppa Italia l'anno scorso è stata una bella sfida quindi è stata ci vedrà quest'anno andiamo scusa vai vai ecco è lei ecco sì tiziana del serrungarino grazie mille Elisabetta sicuramente ci dovremo conoscere personalmente va bene quando vuoi penso che sabato vinceremo di 8 8-2-7-4 lo segno eh ragazzi c'è questo lo segno Marco una domanda per me va dalla cartomante si fa leggere le carte col punteggio una volta sai che non mi ricordo se era Radio Città o addirittura Stereo Pesaro c'era un programma in cui bisognava indovinare il risultato e si vincevano i biglietti era bellissimo poi alla fine qualcuno ci azzeccava sì sì cioè intanto col punteggio preciso sì dovevi indovinare esattamente ma poi si erano accumulati i premi quindi poi se tu non lo azzeccavano mai vincevi 10 premi capito poi di tutte le puntate che erano rimasti lì carini mi sa che era Radio Città con Elio forse comunque era una bella cosa Giacomo da Monteluro ci scrive Marco una domanda all'angar lei andava in curva mi ricordo un volto simile nel mitico inferno allora no no non andavo in curva non andavo l'inferno era un po' più borghese e stavo nella curva esattamente opposta a quella dove Marco Piccoli e gli altri scatenati diavoli lanciavano i cori poi aveva il ciuffo è vero un periodo della mia vita un po' da Roccabilli esatto Maria Chiara dalla Spezia ci scrive un caro saluto a tutti i presenti io e la mia famiglia eravamo a Pistoia ed è stato veramente un momento bellissimo per festeggiare questa fantastica vittoria insieme ai ragazzi Grande Visco continua così Maria Chiara vincitrice di tanti contest è vero Marco Cadetto dalla Spezia giocava in casa praticamente Pistoia insomma non è vicinissimo però dai non ha fatto molta strada dai ok bravi che siete venuti comunque ecco perché valsa la pena assolutamente che valsa la pena allora perché ci fa proprio questa domanda su questo argomento che aprirai a breve sì allora vogliamo parlare con Visco della sua attività di vlogger io siccome sono una boomer prima gli ho chiesto esattamente cosa si intende per vlogger e lui mi ha spiegato ovviamente che è un vlogger che fa il video non hai creduto a me non ho creduto a me perché io pensavo che vlogger io sono un boomer anch'io ma lo sapevo no non è vero no no io ho pensato magari la V di Visconti era carina sì oppure la V di VL già fare il vlog penso che sia visto all'esterno comunque apriamo questo capitolo social in cui Riccardo è diventata una piccola celebrità nel mondo della rete su Youtube come è nata l'idea come si sta sviluppando quali altre sorprese in serbo per i tuoi fan ma è nata perché qui scusa guardiamo anche quello che sta mandando Andrea sono delle immagini dei primi video che hai fatto è nata proprio così è nata proprio così perché ero in Sardegna e mi è arrivata la chiamata che sarei stato convocato tra i 16 giocatori che si giocavano il mondiale il giorno dopo avevo l'aereo per tornare a Bologna ho detto ma perché io non racconto questa cosa qui nessuno può raccontare una roba del genere e quindi ho iniziato a fare questa cosa qui ho iniziato a raccontare la verità perché racconto solo la verità nel bene ma soprattutto nel male questo è lo spogliatoio per chi non l'ha mai visto lo spogliatoio delle belle sia nel bene che nel male nel senso non è che racconto solamente le cose belle perché quello che voglio fare io è semplicemente normalizzare determinate situazioni normalizzare che siamo persone normali che ci sono delle cose positive che facciamo delle cose bellissime perché è la verità ecco la mia ma è piccolina ma la verità è che un cocherino un cocherino sì la verità è che facciamo ci sono molte più cose negative nel senso dure da affrontare piuttosto di quelle positive e quindi un ragazzo magari 12, 13, 14 anni che mi guarda e vede determinate cose può capire che per arrivare a un certo livello bisogna lavorare ne parlavamo proprio l'altra sera poi sai con chi di come può essere duro per un ragazzino di 13, 14 anni lasciare casa lasciare i genitori andare in un'altra città solo per credere nel suo sogno cestistico o sportivo comunque bisogna avere tanta forza a trovarsi da soli questo non l'ho ancora raccontato nel blog perché io tendenzialmente cerco di prendere un argomento e parlarne contestualizzandolo alla situazione quindi la settimana prossima sarà Natale questa settimana ti ho detto prima che cosa sarà lo puoi dire dai nel concerto di Antonello e Francesco venditi dei Gregori che mi hanno fatto impazzire era il mio sogno però c'è stato il momento in cui ho differenziato professionismo e dilettantismo che è una cosa secondo me molto interessante mille altre cose ho parlato della mia carriera di quando sono uscito di casa di come sono andate le cose quindi è semplicemente per informazioni io credo che sia interessante perché almeno a Pesaro credo c'era questa sensazione quando io ero piccola e guardavo i giocatori come miei idoli prima di diventare poi giornalista e magari affrontarli da un altro punto di vista che poi mi interessa ancora cioè chi sono questi ragazzi per i quali noi la domenica diventiamo matti fuori dal campo anche ma anche in campo il loro carattere la loro vita i loro sogni i loro problemi tanto sono persone normali ammettizzarli è sbagliato è partito tutto dal fatto che io quando mi è venuta in mente questa cosa qui mi è proprio venuto il flash che io da piccolino probabilmente avrei pagato per vedere gli giocatori che per me erano Bellinelli, Mancinelli che erano i giocatori a Radori a Biella perché era vicino a casa mia che mi raccontassero effettivamente com'era la cosa perché quando sei piccolo tu sogni di arrivare a giocare a un determinato livello ma non è scontato che tu ci possa arrivare e quindi tutto questo nasce per questo poi l'ho raccontato recentemente che la spinta in più me l'ha data quando sono stato tagliato in nazionale e l'ho raccontato semplicemente ho normalizzato la cosa perché la verità che mi ha scritto una mail un genitore dicendomi che suo figlio era stato tagliato dalla selezione regionale per il trofeo delle regioni e che da quando aveva visto il mio video si era ripresa la passione aveva capito che era una cosa normale no? e ripeterò sempre magari non interessa nessuno ma se anche solo una persona mi dà un feedback positivo su questa cosa e mi dice che gli è servita io continuerò ma anche perché mi diverto quindi non vedo perché non devo farlo senti Riki giornalmente quanto ti occupa questa tua attività tra realizzazione dei video post produzione pubblicazione per fare i video di la verità dico la verità allora montaggio ma c'è un sacco di tempo libro questi ragazzi due minuti di riprese al giorno perché ci metto un secondo a prendere il telefono e dire tanto non è difficile per me parlare come potete vedere poi di post produzione io non è che faccio qualcosa di incredibile adesso mi sto un attimo sto cercando di voglio fare qualcosa di più ci saranno delle sorprese per Natale no però non non è assolutamente niente di impegnativo anche perché come faccio questo sono iscritto all'università sono laureato e mi sto prendendo la laurea magistrale quindi è questione di ottimizzare il tempo no? perché io potrei stare come quello come fanno probabilmente la metà dei giocatori a giocare alla Playstation tutto il pomeriggio o a dormire io la maggior parte delle volte che chiedevo agli americani qualcosa che facevano nel tempo libero mi rispondevano dormo perché hanno infuso orario ancora da smaltire da quest'estate è così ma se uno vuole io guardo anche ma non è neanche una cosa del tutto negativa perché poi alla fine c'è chi ha la famiglia ma c'è anche chi non ha la famiglia è solo si si trova ognuno gestisce il tempo come vuole io sono iperattivo certo se non faccio niente inizio a pensare faccio ragionamenti e quindi tanto male senti ma la società ti ha detto qualcosa la società è la tua attività dalla mia parte nel senso non fa altro che far vedere la WL anche perché tutto è partito dall'anno scorso che io come testo ho provato a invitare tutti i ragazzi alla campettata ho fatto una campettata a basket giovane e sono arrivato non so quante persone io mi aspettavo 40 ragazzi invece abbiamo riempito tutto quanto ho provato a fare la stessa cosa a Dolbia hanno chiamato la polizia perché non si aspettavano una roba del genere quindi per me è una cosa positiva alla fine non faccio cose brutte non è che questa cosa mi distrae perché per andare a Pistoia ho vloggato tutti i secondi della cosa da quando ho fatto il concerto venerdì sabato la partenza il viaggio dopo il viaggio quindi mentre vedevano le partite che giocava la Virtus il giorno della partita tutto quanto spiegando come era la partita con questa cosa cioè con questa partita da 19 5 su 5 da 3 e visto che era andato al concerto di Venditi De Gregori venerdì e poi ha girato tutto il vlog e ha giocato così basta lasciatelo stare che Riccardo quando fai video si rilassa lo dico guardando la telecamera non mi distraggo mi diverto poi se gioco male in campo è a parte non è per il vlog perché sono scarso senti ieri poi sei andato anche a un'attività sociale no? sì sì non mi ricordo quando è stato vabbè comunque è stato mettiamo questa foto in settimana Ricky e Trevon Bluyet sono stati a Santo Stefano lunedì pomeriggio ecco posso raccontare l'unità di questo ragazzo qui perché mi trema la voce già solo allora questo ragazzo qui è affetto da un autismo era come posso dire quello un po' più chiuso tra tutti i ragazzi e non parlava molto sono riusciti a convincerlo a provare a fare un tiro al canestro perché c'era il canestro e quindi gli hanno dato la palla solo che lui senza parlare faceva segno che era stanco quindi ho provato a convincerlo a tirarlo su per fargli fare una schiacciata dopo un po' sono riuscito a convincerlo a farsi fidare gli ho detto ti fidi di me cioè puoi fidarti ecco no non era lui vabbè stai rifatto che l'ho tirato su quando si è trovato in questa posizione ha iniziato a urlare come un pazzo perché probabilmente c'è stato qualcosa che gli ha dato fastidio quindi io l'ho appoggiato immediatamente lui è corso dalla mamma dopo un po' sono andato in questa posizione qui gli ho detto ma che cosa è successo è stata ti posso aiutare in qualche maniera ti ha fatto paura all'altezza ti ha fatto paura ai ragazzi che urlavano e lui a un certo punto è scoppiato non mi diceva niente è scoppiato a piangere tra sé e sé ho fatto perché piangi e lui mi ha risposto che io veniva da piangere perché ero tanto gentile con lui e questa cosa mi ha fatto mi ha spezzato non si creda il cuore poi abbiamo fatto una foto insieme è stato giuro che mi vengono i brividi ancora perché è bello 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 avete fatto una cosa bella poi anche per Trevon perché penso quando un americano arriva qua che si trova un po' spiazzato magari passare un pomeriggio del genere lo fa sentire un po' coinvolto guarda lo vedi dalla faccia che c'è Trevon è un soggetto incredibile è simpaticissimo è super semplice come ragazzo quindi guarda che sorriso che ha io sembro un elfo guarda che orecchio che ho bene è un centro di riabilitazione Santo Stefano che si occupa di tante cose ma non sapevo onestamente che ci fossero anche i bambini coinvolti in questa realtà quindi avete fatto una cosa veramente bella un bel regalo di Natale è stato bello 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 la VL è sempre molto attenta a queste cose di solidarietà allora adesso andiamo a vedere un attimo la classifica di Serie A grazie Andrea se ci metterai la schermata perché Marco farei i suoi pronostici perché sappiamo che è la vera passione e invece a Ricchi vorrei chiedere la squadra sorpresa dopo 12 giornate la squadra d'elusione ma allora io onestamente non mi aspettavo che Trento cioè Trento è una buona squadra ma non mi aspettavo facesse così ma anche Napoli però di più Trento come squadra d'elusione agli stessi punti della Virtus quindi giustamente a me non piace parlare di delusioni perché non è non sono contestualizzate io credo che sotto le aspettative Treviso è partita sotto le aspettative ma adesso che ha iniziato a vincere mi direte se sbaglio ma farà fatica a perdere da adesso in poi perché ha messo nel motore un certo Justin Robinson esatto e quindi cioè direi loro ma solo per lo 0-9 iniziale ma adesso sono tre di fila vedremo quando smetteranno quindi per fortuna ci abbiamo già giocato esatto esatto Marco senti tu che è una vera passione per i pronostici dai spara chi vince chi vince la Coppa Italia uff questo è difficilissimo Brescia eh no così è troppo semplice ma chiesto in un pronostico chi vince lo Scudetto non vince mai Brescia e quali le due squadre che scendono in la dura uno mi dispiace dire Brindisi perché avrai il cuore legato ancora agli amici pugliesi l'altro è difficile l'altro è difficile anche come avete detto Treviso in netta ripresa Varese vediamo se innesta qualche rinforzo adesso poi tu che hai il polso del mercato dopo ne parliamo basket mercato quindi ma sai che a me è difficile dare una seconda indiziata io onestamente sì perché Sassari secondo me non ha assolutamente le stimate per stare tra le ultime due secondo me io non so se Scafatti dopo ma non perché una brutta squadra se dopo l'addio di Pino Sacripanti a cui facciamo tanti in bocca al lupo se per caso fosse all'ascolto e l'abbiamo conosciuto qua Pesaro è una brava persona veramente oltre che un ottimo coach ha dovuto lasciare la squadra per motivi di salute è entrato Bonicciolli sono cambiate un po' di cose è vero che hanno preso anche un giocatore forte come Gamble però non lo so mi dà l'idea che potrebbe essere un po' più in difficoltà rispetto all'inizio sparato che aveva fatto compreso vincere qua dopo quel tempo supplementare che ancora ci sta un po' qua sono quei due punti quella non è andata giù ancora è perché quei due punti lì potevano già averci messo in un'ottica completamente diversa anche di Coppa Italia certo anche di Coppa Italia ancora ci sono qualche speranziella no? sì che dici? che dici? matematicamente la matematica possiamo ancora farlo il problema è che abbiamo lo scontro diretto con Cremona cioè vorrebbe dire ci dobbiamo chiudere a due punti in più di Cremona loro hanno vinto le ultime partite e adesso come vedete sono due punti sopra di noi però due punti sopra di noi c'è anche la qualificazione in Coppa Italia sì il problema è che il 30 arriva alla Virtus no anzi andiamo a Bologna andiamo a Bologna e l'ultima in casa con Sassari a giro di Boa quindi queste sono le tre partite che restano quindi non so se quattro punti nel caso bastano infatti senti parliamo adesso un attimo di mercato davvero sì perché ci sono due notizie oggi non so da dove cominciare perché forse cominciamo da Delfino dai Carlos Delfino torna a giocare in Serie A2 onestamente io non me l'aspettavo perché a casa è troppo facile appunto perché pensavo che non volesse scendere di categoria però lo fa nella città in cui abita ricordiamo che lui ha sposato una ragazza della zona quindi 100 in provincia di Ferrara abita lì la sua casa è lì si stava allenando con loro per tenersi in forma forse sperando in una chiamata diversa che non è arrivata magari e allora ha pensato vabbè allora gioco qua e debutta sabato che dici? Carlos vabbè lo conosciamo tutti molto bene in A2 può spostare davvero perché vabbè non c'è bisogno che stia io a dire il giocatore che è poi secondo me parlando di Carlos non bisogna neanche considerare tanto l'età perché fisicamente forse più giovane di me quindi è sicuramente un acquisto incredibile per cento ci credo ma tu te l'aspettavi che lui sarebbe tornato perché lui non aveva dato l'addio c'era un po' di voci dai che dicevano che vabbè sapevamo tutti che si stava allenando con cento e c'era un voce che lui volesse tornare a giocare quindi probabilmente era la situazione un po' più semplice per fare in modo che tornasse a giocare si è riposato un po' recuperato senza tante sviolinate quanto ti ha insegnato l'anno scorso? Molto ma io cerco nel punto di vista almeno dell'esperienza ma io cerco di prendere penso che non esista un giocatore che ha giocato con me che non mi ha dato qualche cosa e spero che sia lo stesso anche al contrario anche se dubito no a parte di scherzo beh vabbè tu lo potrei essere magari per Stazonelli esatto per Maretto per Maretto assolutamente sì assolutamente sì poi quando avrai 30 anni magari su Minecraft gli do Stazonelli gli dirà mi ha insegnato Visconti esatto esatto no sì quando Stazonelli sarà capitano anche tutti lo aspettiamo al barco senti dici invece che tipo è Maretto che lo conosciamo poco o che è un personaggio incredibile è proprio argentino anche lui Octavio un ragazzo d'oro perché è un ragazzo d'oro noi lo prendiamo sempre in giro lo massacriamo tra virgolette lui non dice una parola è sempre ad allenarsi come un pazzo tosto tosto davvero e quindi è super il giovanile sta facendo veramente cose importanti sì sì anche perché è più sviluppato di me quindi ci sta grosso eh no dai bravissimo a parte di scherzi ripeto lo prendiamo in giro un bel po' zero per maloso sempre un bel po' è pesarese sappi che un bel po' è pesarese lo so ma io sono ormai come parlavo di eletto brindisino a brindisi adesso sto prendendo un po' di cose e invece l'altra operazione di mercato che invece ci riguarda da vicino è l'arrivo di Nicomegno Navarese io onestamente non pensavo che avrebbero fatto in tempo a tesserarlo e invece giocherà sabato contro la VL però dai diciamo che dà un po' di pepe a questa sfida non c'è Davide Moretti che è infortunato sarebbe stato bello riaffrontarsi quindi mancava un pochino di pepe in questa sfida arriva Mannion all'improvviso così lascia al Bascogna torna dalla Spagna anche lui come Cinciarini e approda in una squadra in difficoltà che dici più che altro lui è il giocatore perfetto per lo stile di gioco cavarese quindi non serve neanche che si integri più di tanto voglio dire perché come giocavarese è perfetto lui è perfetto proprio quindi dovremmo stare attenti perché Nico lo conosciamo tutti sappiamo che si può accendere in mezzo secondo poi fermarlo è difficilissimo l'ha incrociato in nazionale sì quando ho fatto l'esordio che tipo è dal punto di vista umano è un bravissimo ragazzo sì 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 ci siamo trovati molto bene molto bene obiettivamente anche perché non me lo aspettavo senza avere pregiudizi però non mi aspettavo fosse così disponibile così bravo ragazzo come in realtà è chi ha visto giocare il padre Pace Mannion un bel giocatore con i baffi c'è canestro tantissimo la mamma è italiana di Siena si sono conosciuti lì e quindi Nico è italianissimo anche se poi magari è cresciuto in America è cresciuto negli Stati Uniti sì più che altro è strana questa cosa che lui in nazionale è riuscito a essere più produttivo rispetto alle sue squadre di club perché anche nella Virtus a un certo punto Scariolo non lo vedeva più tanto e anche al Bascogna non ha giocato la risposta penso di avertela già data prima perché la nazionale con Coach Pozzecco ti lascia molto la possibilità di esprimere il tuo talento molto più di quello che faccia una squadra impostata come può essere la Virtus di Scariolo o come poteva essere banalmente la nostra la nostra squadra l'anno scorso con Repesa cioè era una squadra impostata con un po' più rigida esatto esatto Nico ha un talento senza senso bisogna lasciargli le redini no? bisogna lasciargli le redini libere vuoi dire cioè con quel tipo di basket lì perfetto per Varese questo dico infatti loro avevano cercato di riprendersi Colby Ross che però ci sono state diverse operazioni di mercato in questa settimana il play che l'anno scorso aveva fatto le fortune di Varese ha accettato invece la corte di Tortona che aveva un problema in regia con Chris Dove infortunato mentre Markel Brown altro ex Varese che hanno tentato in tutti i modi di riprendersi è andato a Napoli per qualche euro in più ma io infatti ieri ho detto vabbè due buchi nell'acqua non ci aspettavamo col paccio così dopo aver tentato uno che ti va a Tortona l'altro va a Napoli e loro però sono stati bravi perché hanno puntato su un italiano quindi non c'era bisogno del visto gli hanno fatto prendere un aereo al volo stamattina da Vittoria a tornare a Bologna dove ha firmato il tesseramento in tempo entro le 11 che non era semplice e sabato ce lo troviamo qua motivo in più per andare ad applaudire i nostri ragazzi esatto ecco infatti sabato sera ci scrive Mauro da Schieppe di Orciano sabato sera suonerà Italo Visco forza Visco benissimo benissimo io ho il sospetto ho un sospetto su questa cosa qui poi vediamo va bene e si scrive un carissimo saluto al grande Marco auguri di buone feste a tutti gli ospiti forza VL e forza Nero Azzurri parlate un po' di più di calcio che ogni tanto non fa male chi è l'amico che mi saluta Gigi 63 chi? Gigi 63 Gigi Nero Azzurri ci sono già troppi programmi di calcio dai per una volta che c'è uno di basket tagliamo fuori gli sport minori come chiamo io è vero sono 30 anni che mi dico così 30 anni senti Marco mancherà Davide Moretti dai una parola la dedichiamo a Davide è infortunato la sua partenza aveva un po' diviso la tifoseria quest'estate c'era proprio due fazioni una fazione che avrebbe voluto trattenerlo e che ha considerato un grave errore averlo lasciato andare via e un'altra invece che non lo riteneva adatto come playmaker assolutamente non si discute il suo talento tu da che parte io sono con la prima te piaceva molto mi piaceva molto aveva dato tanto soprattutto l'anno con Repesa e anche con Banchi aveva sicuramente portato a casa molte partite molte partite ricordiamocelo era stato determinante per cui mi schiero con coloro che l'avrebbero voluto tenere adesso peccato non incontrarlo vediamo si sarebbe stato divertente dai vediamo nel girone di ritorno assolutamente nel girone di ritorno vediamo se si ristabilisce comunque Varese ha giocato una partita solida contro Milano ha perso solo di 4 quindi ecco vediamo gli highlight di questa partita ha combattuto per cui non è una squadra ecco si magari una classifica un po' deficitaria però se le gioca in molte partite Milano in netta ripresa tra l'altro come la vedi Varese onestamente Riccardo a parte sono tutte come posso dire il nostro campionato quest'anno è ancora penso più equilibrato dell'anno scorso cioè non c'è una squadra che dici ci vinco sicuramente non c'è una squadra che dici ci perdo sicuramente però a parte le eccezioni Varese è una squadra che anche l'anno scorso dipende tantissimo perché è una di quelle squadre che se azzecca la situazione fa sempre canestro poi è davvero difficile giocarci contro come lo erano l'anno scorso poi magari i giocatori quest'anno sono leggermente diversi però sono comunque una buonissima squadra Marco secondo te è una partita quando si affronta una squadra che sotto di te in classifica c'è sempre il rischio soprattutto se si viene da una vittoria magari di dire ok questa qui sono due punti già nostri bisogna vincere assolutamente invece bisogna stare attenti comunque poi la storia insegna anche ultimamente abbiamo preso certe cantonate con squadre che erano sotto di noi per cui attenzione massima anche perché poi veramente vorrei ripeterlo l'innesto di Magnion l'ho detto tu prima può cambiare veramente la l'asticella da una parte all'altra l'ago della bilancia però Cincia Cincia il suo debutto in casa non vuole nell'intervista ha chiuso dicendo la tavola è già parecchiata non vogliamo farci andare di traverso il panettone c'ha ragione c'ha ragione però bisogna fare attenzione perché magari una rondina non fami primavera io non voglio portare sfortuna per carità dopo una grandissima prestazione potrebbe esserci certo ma può sai un calo nella seconda partita tante volte è stato così però non veniva da un infortunio veniva soltanto da un'altra squadra quindi io su questo non penso l'unica cosa anzi io mi aspetto che Andrea faccia canestro perché uno su nove non è da lui quindi ha già dato dieci assist e quelli lì secondo me ne può ridare dieci anche sabato non ho paura di dirlo una decina di assist ma l'anno scorso viaggiava a questa media quindi non è una sorpresa che lui dia dieci assist magari non è il giocatore che deve fare 20 punti ma quando ha magari due tiri aperti di solito non li sbaglia Pistoli li ha sbagliati tutti però non importa ha messo i due tiri liberi della staffa quindi lo perdoniamo esatto sì vai vai Giovanni pure pure no no prima di aprire l'album dei ricordi facciamo ancora un paio di domande salutiamo il dottor che ci segue tagliabracci la dottoressa Sabatini e la dottoressa Melania e Anto Torres che questa sera ci sta seguendo però manca una domanda non so se Betta se ti sei accorta è una domanda che oggi non ho fatto qual è? vai quella di Andrea scusate di Stefano che ci chiede a Marco che ha detto intanto ben tornato e ben trovato grazie un piacere averti qui non so Marco se te la ricordi anche te questa domanda il prossimo anno possiamo partecipare a una coppa europea? sempre lo chiedo e io gli dico sempre di no allora chiede a me secondo te sarebbe se lui vuole sapere sempre dagli ospiti secondo me sarebbe un sogno anche perché la nostra generazione Betta ha viaggiato all'Europa con la Scavolini e noi seguivamo le imprese i viaggi della Betta sarebbe un tuffo nel passato dai obiettivamente è un'esperienza meravigliosa allora Pesaro Pesaro si è fatta conoscere in Europa grazie a Palacanella esatto questo lo dobbiamo dire assolutamente quando si andava in giro una volta non c'era ancora Valentino Rossi quindi era la Scavolini il mezzo per farsi conoscere tuttora tuttora io l'ho detto più di una volta negli anni scorsi quando andavo adesso non si può più andare in Israele dove per lavoro ho tantissimi clienti appena dico Pesaro Scavolini appena dico Pesaro quindi magari si potesse tornare in Europa sarebbe bello però ecco con tutti gli ospiti abbiamo detto bisogna consolidare prima la società che abbia un budget un po' più importante perché bisogna essere anche realisti con questo budget di quest'anno una coppa non si può fare quindi si fa se e questo è tutto un altro discorso se tutti i consorziati se si trova non lo so c'è un proprietario che magari si prende una parte delle quote cioè si fa una coppa se come io ho fatto un'intervista della Valle la scorsa settimana e lui ha detto che il miracolo di Brescia di quest'anno è perché non hanno fatto una coppa ha ragione perché l'anno scorso si sono ammazzati per restare sui due fronti e alla fine non sono andati neanche nei playoff allora il gioco poi non vale la candela per fare una coppa che magari non la vinci e poi magari in campionato sei sotto le attese che stagione hai fatto vuoi metterle l'emozione di viaggiare in Europa dai ma per noi la domanda me l'ha fatta a me e per i giocatori e se lo chiedo a Riccardo ovviamente per i giocatori è sicuramente bello bello io l'ho fatto per tre anni un anno a Venezia e due anni a Brindisi abbiamo fatto sempre la Champions League è bello è bello assolutamente poi dipende anche da come risponde la città perché tutte le volte che magari ne parliamo ci sono stati dei momenti in cui magari il mercoledì non veniva nessuno a vedere la partita questo è normale che per una società conti tantissimo come conta il fatto di non avere un aeroporto a Pesero e questa cosa pesa magari per i giocatori sul sul trasferimento sul viaggio ma fino a un certo punto ma pesa la società parlando di soldi perché è normale che una trasferta implichi dei soldi e qualsiasi cosa in più implica altri soldi e poi sta alla società a decidere se è una cosa da fare oppure no secondo me e allora uno che è di coppe che è una coppa l'ha giocata sicuramente l'anno dopo lo scudetto quando Pesero partecipò per la prima volta alla coppa dei campioni apriamo l'album dei ricordi e questa sera grazie ai video di Claudio Iacchini che ringrazio ancora una volta vi parliamo di un giocatore veramente straordinario che è Norm Nixon Norm Nixon nasce a Macon in Georgia l'11 ottobre 1955 raramente la WL ha avuto una prima scelta assoluta in BA tra le sue fila ma con Nixon accadde anche se per soli due mesi Norm The Storm questo è il suo nickname venne scelto infatti al primo giro dai Los Angeles Lakers nel 1977 con i quali vinse due anelli nel 1980 e 1982 fu inserito nel quintetto dei migliori rookie alla sua prima stagione fra i pro e selezionato due volte per lo Star Game nell'82 e nell'85 a Pesaro arrivò come sostituto di Larry Drew infortunato nel campionato 88-89 quello successivo al primo scudetto finito purtroppo con l'episodio della monetina che colpì Dino Meneghini in gara 1 di semifinale scudetto trasformando così una vittoria sul campo in una partita persa a tavolino che costò alla Scavolini un'eliminazione che la privò della possibilità di fare tris visto che poi rivinse il titolo nel 1990 queste sono le immagini di Nixon al vecchio Palace guarda la gente seduta anche sugli scalini prima di sbarcare in Italia Nixon giocò anche con i San Diego Clippers poi diventati Los Angeles Clippers era famoso anche per essere il marito dell'attrice Debbie Allen la maestra di danza della mitica serie TV saranno famosi la foto e se Norm era l'idolo al Palace Port con i suoi impareggiabili assist c'era sempre un nugolo di ragazzine che inseguiva la moglie per la città per scattarsi una foto insieme alla protagonista di Fame appese le scarpe al chiodo Nixon tentò brevemente l'avventura di coach nell'ABA una lega minore americana veramente personaggio eccezionale che quando fu firmato nessuno ci credeva perché un giocatore con un passato così nell'NBA a Pesaro forse non c'era stato tu te lo ricordi quando iniziarono le trasmissioni e le partite commentate da Dan Peterson che vedevamo a tarda ora su teleprivate non mi ricordo neanche Telepesaro forse le dava e Norm Nixon che giocava con Jabbar il play adesso che mi sfugge Magic Johnson esatto quindi una cosa da non credere veramente è stato un piacere vederlo e ancora adesso e oggi il regista Andrea Sabattini dice che suo padre sono appunto non so quanti anni che gli racconta di questo passaggio schiacciato che attraversò tutto il parquet praticamente preso il rimbalzo Norm schiacciò un passaggio che arrivò dall'altra parte del campo dove qualcuno non mi ricordo chi lo raccolse per segnare due facili adesso dove vive è rimasto sempre in California però non ha fatto quindi l'allenatore non è stata la sua carriera però farà il ballerino con la moglie è un personaggio incredibile anche lui è stato protagonista di un film se non mi ricordo il titolo era entrato ma la moglie clamorosa forse era più famosa lei di lui ma sicuro in un certo momento a un certo momento sicuro quando uscì il film sono stati anni eccezionali bene Giovanni hai ancora qualche domanda se no dobbiamo anche dare la soluzione del contest la scorsa stagione Riccardo Visconti lo ha il record precedente contro Treviso aveva segnato ben 17 punti il vincitore è Gian Marco bene Gian Marco allora sarai al palazzo sabato a vedere la partita con Varese noi veramente ricchi ti ringraziamo tantissimo io ringrazio voi per l'invito come ho fatto all'inizio ma soprattutto anche per la tua spontaneità per la voglia che hai di raccontarti di farti conoscere questo è molto importante come hai già capito benissimo da solo assolutamente bene Marco grazie mille quando vuoi tornare volentierissimo volentierissimo e complimenti per la trasmissione grazie però adesso devo dare una notizia triste ai nostri telespettatori perché per un po' non ci saremo facciamo anche noi una vacanza per lasciare veramente un po' di riposo anche a chi costruisce questo programma dietro le quinte ringrazio tanto Andrea Sabatini per la regia ringrazio Giovanni Zidda che sta al desk per le domande l'ultimo aggiornamento Valencia 73 Virtus Bologna 69 10 secondi alterni allora noi torneremo il 18 gennaio quindi dovete resistere l'ultima dell'anno è stata questa è l'ultima del 2023 abbiamo chiuso con Riccardo e apriremo sperando di raccontarvi cose belle con la VL in Coppa Italia magari sarebbe bellissimo Ricchi tocca ferro da qualche parte ricordi l'anno scorso avevamo lanciato il coro Gelsomino portaci a Torino è vero bene ci siamo divertiti tanto questa sera veramente io vi porgo veramente i più belli auguri di Natale e di buon anno da parte di tutta la redazione di Rossini TV grazie per il vostro affetto non cambiate canale ricordatevi che ci vedremo a gennaio e parleremo ancora di Palla Canestro ma nel frattempo la VL continuerà a giocare quindi voi potrete seguirla e anche seguire ne parleremo magari nei telegiornali e non è che ci dimenticheremo del campionato che avanza però insieme a Canestro torna il 18 gennaio ciao a tutti e buone feste hai visto quante novità al Conad di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conad di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parquet ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio oh I keep dancing with my cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo a Rio Salso di Tavuglia a Rio Salso di Tavuglia a Rio Salso di Tavuglia